Buonasera a tutti cari amici, come state? Allora, un interattivo sarà serale, dopo cena, e vediamo un attimino di intrattenerci ancora una volta insieme. Spero ancora una volta di farvi buona compagnia. Allora, come vedete ci sono due mazzi, facciamo sempre una variante unica, utilizziamo appunto il mazzolo degli arcani maggiori, quello che vedete più piccolo, e poi quello classico dei tarocchi. E la domanda è questa, ci sarà una svolta nella nostra relazione? Quindi una svolta, uno sblocco? Cioè, riusciremo a trovare una soluzione, una fine nel bene e nel male, ma comunque una risoluzione della situazione. Ci sarà quindi questa svolta, che farei in modo che questa situazione, tra virgolette appesa, possa avere una soluzione, in un modo o nell'altro. Quindi o lasciarsi definitivamente, oppure riprendere la relazione. Quindi qui parliamo di una situazione in cui ci sono fermi e blocchi. Quindi ripeto la domanda, ci sarà una svolta nella nostra relazione? Vediamo un pochettino. Intanto vi dico che siete sul canale Beliero Senzanome, che vi parla è perla. Allora, ci sarà questa svolta, in questa relazione così tormentata, così piena di problematiche, disastrosa. Introduciamo la stesa con gli arcani maggiori. E poi vediamo, quindi vediamo che energie abbiamo qui. Variante unica. Vediamo chi viene a trovarci, quali sono le energie. Quali sono le energie che vengono a trovarci stasera. Ok, vediamo un pochettino. Quali sono le energie. Prendo tre carte. Vediamo quali sono queste energie. E poi prendiamo i tarocchi. Abbiamo la torre. Le stelle. Un imperatore. Allora, qui abbiamo, se presente, palesato questa persona che qui viene divinta come un imperatore. C'è stato tra di voi un crollo. Voi che state guardando. La relazione che sembrava andare a gonfie vele all'improvviso ha avuto un arresto. E si è bloccata, si è fermata. Per alcuni c'è stata proprio una rottura. Per altri un fermo. Però è stata una cosa improvvisa. All'improvviso tutto è crollato. Tutto è finito. E voi non vi spiegate come sia potuto accadere. Ancora adesso, anche se è passato del tempo, non ve lo spiegate. Come da una situazione amorosa che sembrava bella, che sembrava rosea, all'improvviso tutto è crollato. All'improvviso questa persona vi ha fatto un volta faccia completo. E in pochissimo tempo vi ha totalmente deluso e abbandonate. Io credo che questa persona non si sia più fatta viva dal momento della rottura della relazione. Quest'uomo che qui viene presentato come un imperatore, quindi una persona intelligente, una persona autoritaria, orgogliosa, testarda, che o si fa come dice lui o niente, è una persona con un carattere molto particolare, molto testarda, una persona, diciamo, come possiamo dire, anche narcisista, a volte troppo terrena, troppo pragmatica, troppo razionale, che non fa capire ciò che prova, cioè che tiene ben nascosti i suoi sentimenti. E un po' questa persona, proprio per questo, vi ha fatto molto soffrire. E continua a farvi soffrire, perché se di le guadano è nulla. Con questa carta delle stelle, praticamente adesso, dopo un po' di tempo, voi avete ritrovato la vostra armonia. E, diciamo che in un certo qual modo, ci sono per voi delle buone nuove. Ovviamente adesso non sappiamo che buone nuove sono, se questa persona tornerà o no nella vostra vita, ma sicuramente voi avete raggiunto un certo equilibrio adesso, perché è passato del tempo, e vi siete convinte che comunque la vita va avanti lo stesso, anche senza questa persona, e che o con lui o senza di lui, avete deciso che volete essere felici. Comunque. Ok? Tra l'altro questa persona adesso, che è passato del tempo, vi ritiene un po' lontana, le stelle sono lontane. Quindi vi ritiene, vi ricorda ancora con, con molto affetto, ma vi pensa come un qualcosa di lontano, un qualcosa che ormai raggiungi, non può più avere. Quindi vi ha un po' idealizzate. Ecco, in questo momento, questa persona vi ha un po' idealizzate. Per lui siete ancora bellissime, stupendissime, come l'ultima volta che vi ha viste, perché ovviamente non vedendomi in questo tempo, nella sua mente siete ancora come quel giorno, perché non vi siete più rivisti. E quindi lui in questo momento vi pensa con affetto, però, proprio perché pensa di avervi perdute per sempre, non, pare, non si voglia far vivo. Però vediamo che altre cose possiamo dire. Ora, se questa situazione è la vostra, continuate a seguire, se no, lasciate andare e chiudete il video, così non perdete tempo. Allora, per chi si è riconosciuto in questa descrizione, vediamo che cosa dicono le carte, insomma. Vediamo che dicono queste carte. comunque voi ancora ci sperate che questa persona possa ritornare nella vostra vita. Ci sperate parecchio. Adesso smazziamo. A fondo mazzo abbiamo una ruota della fortuna, quindi il destino farà il suo corso, e sicuramente il cambiamento ci sarà. Il cambiamento ci sarà. Adesso vediamo che cosa, adesso ho fatto queste qua, e vediamo che tipo di cambiamento ci sarà. abbiamo la regina di spade, il quattro di bastoni, l'appeso, il dieci di denari, il dieci di denari e le decine di coppe insieme, il sei di denari, la luna, il cinque di coppe, il carro, il sette di spade. Qua voi vi sentite veramente tradite da questa persona, ma l'abbiamo detto prima, è passato del tempo da quando non la vedete, perché l'appeso mi fa pensare che è passato parecchio tempo. Vi sentite tradite e ingannate da questa persona, colpite alle spalle, perché come vi dico la cosa è stata improvvisa quando questa persona vi ha abbandonato o abbandonate. voi a questa persona ci tenevate veramente tanto, per voi era proprio la persona della vostra vita, la persona giusta. Vedo questi due dieci, voi proprio eravate, e questo quattro di bastoni, cioè voi eravate convinti o convinte che questa persona potesse essere veramente la persona giusta per voi. Vi fidavate ciecamente di questa persona. E vi sentite proprio quando questa persona vi ha abbandonato tradite, ingannate, pugnalate alla schiena, pugnalate alle spalle, perché non ve l'aspettavate questo abbandono. Tanto che siete rimaste desolate e anche se siete diventate, vedete questa regione di spade, molto fredde adesso, molto guardinghe, avete alzato le vostre barriere. Se questa persona domani ritornasse, non è che la credereste subito, ci metterebbe del tempo a fare il primo braccio nel vostro cuore, proprio perché vi siete molto indurite. si diventate molto più razionali, molto più pragmatiche, molto più sulle vostre, molto più che non fate vedere agli altri chi siete. E questo perché appunto siete rimaste delusi da questa persona, che continua a non darvi le sue notizie. Con questa luna voi siete nel dubbio più totale, non sapete che cosa sta facendo questa persona, siete all'oscuro di quello che fa. Avete delle sensazioni, ma non l'avete più vista. E quindi vi potete immaginare ciò che può fare questa persona, ma in realtà voi non lo sapete. e questa cosa vi crea parecchi disturbi, parecchie problematiche, perché non sapete veramente questa persona che sta facendo in questo momento. Non lo sapete. Come segno geodecale, voi che state ascoltando, potete essere bilancio a quale oggi è meglio avere l'ascendente in uno di questi segni, oppure il tema natale. Quindi questa persona è scomparsa dalla vostra vita, vi ha lasciato così desolate, però questo carro mi fa pensare che qualcosa di nuovo sta per accadere. Prima avevamo visto che c'era la ruota. A questo punto voglio vedere qual è la novità che accadrà a breve, perché qua io penso una cosa a breve, perché il carro è una carta molto... a pensare a qualcosa che arriva in breve tempo. Vediamo in breve questa persona che cosa farà, quindi, vista la situazione, cosa farà questa persona, se ci sarà questo sblocco finalmente, se ci sarà questo sblocco, oppure no. Vediamo così. Sono uscite tutte insieme, le prendo tutte quattro. Quindi abbiamo un cavaliere di spade, un papa e un altro cavaliere. Allora, questa persona per alcuni di voi potrebbe essere già impegnata, sposata, avere una relazione ufficiale. Però, per rispondere alla vostra domanda, sì, io vedo uno sblocco, per quanto vi riguarda, da parte di questa persona, nei vostri confronti. Questa persona si valeserà a breve e vi darà sue notizie. In qualche modo si farà sentire o vi messaggerà, perché questi due cavalieri mi fanno pensare a una persona che in breve tempo si palesa, insomma. vi darà sue notizie, questa persona. Questa persona vi spia sui social, se siete sui social e pensa che voi, come possiamo dire, state bene anche senza di lui, perché crede che voi siate felici anche senza di lui. Questo nome di denari mi fa pensare che voi comunque ve la cavate anche senza questa persona che la singlitudine per così dire non vi sta facendo male. Voi state bene anche da sole. Siete indipendenti, sicure di voi, avete la vostra vita, i vostri amici, la vostra famiglia. Certo, la celleggina sulla torta sarebbe avere questa persona accanto a voi, però vedremo se si valeserà. Da queste carte penso di sì, però voglio prendere per sicurezza qualche altra carta. vediamo. Prendiamo qualche altra carta qua, oracolare. Poi anche voglio vedere che pensieria questa persona verso di voi. Quindi questo sblocco. Ci sarà a breve secondo me. Prendo una carta. tic-tac. Questo orologio mi fa pensare al fatto che è questione di tempo. Nel senso che questa persona come io già avevo presagito è questione di tempo. Cioè entro un certo tempo si valeserà. Quindi la soluzione ci sarà. ovviamente il fatto che questa persona si ripalesi non vuol dire necessariamente che voi vogliate raccogliere nella vostra vita o che lui diciamo sicuramente da questo incontro deciderete di riprendere la relazione. Però che la situazione arriverà a una soluzione questo sì ve lo posso dire. La soluzione ci sarà ovviamente. Magari in base a chi siete voi in base alla situazione per alcuni potrebbe essere positiva per altri negativa però sicuramente la soluzione arriva e anche abbastanza in fretta io coido un qualcosa che si sviluppa in fretta quindi avrete la soluzione al vostro problema. Vi do qualche pensiero di lui cosa pensa questa persona di voi? la persona che a voi interessa potrebbe essere bassa ma bella e fascinosa non tanto alta quindi cosa pensa? Dice mi pento di averti detto quelle cose ci sono delle cose che questa persona vi ha detto che vi hanno ferito moltissimo e lui si è pentito di avervele dette lui o lei ti aspetterò tutta la vita quindi questa persona a quanto pare ancora è presa da voi ho distrutto il nostro sogno d'amore quindi era ammaricato di aver distrutto il vostro sogno d'amore e addirittura dice vorrei fare ancora l'amore con te quindi vedete questa persona come dispiaciuta mi sembra di conoscerti da sempre quindi questa persona dalla prima volta che vi ha viste ha come avuto l'impressione di conoscervi da sempre sei insostituibile quindi proprio questa persona mi pensa ancora con grande rammarico queste carte rafforzano il pensiero che mi sono fatta che a breve questa persona la rivedrete è a brevissimo vediamo le iniziali del nome del cognome e poi vi lascio vediamo le iniziali M E C G P D e ho prima di lasciarvi ho visto il sondaggio quello che ho messo sul sito e ho visto che praticamente sul sito sul canale e ho visto che avete dato parecchie preferenze per la la variante unica la domanda e le domande personali quindi sì ovviamente mi indirezzano in tal senso visto che è ciò che preferite quindi la nuova rubrica di Caffè Latte con Perla che partirà tra non molto io credo a giugno perché adesso ci sto lavorando le nuove diciamo le nuove rubriche partiranno a giugno poi vi dirò esattamente quando e poi faremo una una serie di insomma di di rubriche e vedremo insomma se vi piaceranno o non vi piaceranno però io darò presente quello che avete scritto voi nel sondaggio ok lo darò presente se c'è qualcuno che vuole ancora votare può farlo perché la trasmissione inizierà a giugno la rubrica di trasmissione il video così magari potete non so rispondere ancora o magari se avete delle altre cose da da chiedere o delle rubriche che volete che ci siano dentro potete scriverle sotto al post che ho messo sui commenti quindi potete ancora scrivere oppure potete magari esprimere le vostre preferenze anche sotto a qualche video di quelli che pubblico va bene la trasmissione la fate voi io esaudisco le vostre richieste quindi se avete altre richieste palesatevi subito intanto vi chiedo di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e di appunto cliccare sulla campanellina perché così quando pubblicherò altri video vi arriverà la notifica oppure quando farò delle dirette live e niente lasciatemi pure un like se vi è piaciuto l'interattivo vi lascio e vi do la buonanotte alla prossima ciao ciao